Ciao, e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un film d'azione sulla guerra del 2019 intitolato, Chesari. Attenzione spoiler. Buona visione. Il film inizia nel 1897, quando le truppe indiane erano governate dal governo britannico. Al confine tra il territorio inglese indiano e l'Afghanistan, si trova il Forte del Gulistan. Nel Forte, viene inviato il coraggioso reggimento Sikh dell'esercito indiano-britannico. Il protagonista del film è Ishar Singh, una valdar del reggimento. Un pomeriggio, Ishar e i suoi commilitoni stanno pattugliando il confine, quando sentono il grido di una donna. Dall'altra parte del confine, un gruppo di membri di una tribù afghana sta per uccidere una donna sposata, perché si rifiuta di accettare il marito che è stato scelto dalla sua famiglia senza il suo consenso. Sono guidati da un autoproclamato profeta, Saidulla, che si assume la responsabilità di uccidere la povera donna. Ishar vuole intervenire, ma un alto ufficiale britannico, Lawrence, gli ordina di rimanere fermo, siccome il trambusto si sta verificando dall'altra parte del confine dove le loro regole non funzionano. La donna è a pochi secondi dall'essere decapitata, quando il suo presunto marito viene colpito e ucciso. Ishar ha sfidato gli ordini diretti del suo superiore per salvarla. Corre dall'altra parte, e continua a uccidere tutti quelli che si fanno avanti per fermarlo. Alla donna afghana viene chiesto di scappare, e chiunque tenti di fermarla viene ucciso. Alla fine, gli uomini riescono a catturare Ishar, e cercano di togliergli il turbante per insultarlo. I suoi compagni Sikh corrono in suoi aiuto e attaccano i nemici quando si tratta dell'orgoglio per il turbante. Alla fine, gli afghani vengono sconfitti e Saidullah viene scacciato, ma il tenente Lawrence è infuriato per l'audacia delle truppe indiane. È estremamente razzista con chiunque non sia britannico, e pensa che tutti gli indiani siano codardi. Scrive un rapporto forte per informare il suo comandante della disobbedienza di Ishar. Nella scena seguente, Ishar e il suo compagno Gulabo stanno chiacchierando fuori dal forte, quando all'improvviso qualcuno spara a Gulabo sulla sua spalla. Le inferocite truppe afghane hanno attaccato il forte a causa di ciò che Ishar ha fatto ieri. Le truppe indiane si mettono in posizione, pronte a combattere. Quando segue una sparatoria, Ishar scende dal forte ed entra nel territorio nemico. Usa quindi un esplosivo per attaccarli quando meno se lo aspettano. Grazie alla sua strategia intelligente, il nemico deve ritirarsi. L'ufficiale in comando lo loda per il suo coraggio, ma non può perdonarlo per aver disobbedito a un ordine. Viene quindi trasferito in un forte vicino, Saragari. Nessuno vuole lavorare nel forte di Saragari, perché si trova tra due forti più grandi ed è utilizzato principalmente come ufficio postale per trasferire messaggi tra di loro. Non succede mai nessuna azione a Saragari, quindi sono presenti lì solo 21 soldati, incluso Ishar. Prima che parta per l'incarico, Lawrence chiama Ishar e lo umilia, definendolo uno schiavo per il governo britannico. Ishar è costretto a scusarsi e la sua codardia è attribuita al suolo indiano. Tuttavia, si astiene dal rispondere per non essere ulteriormente rimproverato. Il giorno successivo, Ishar parte per il nuovo forte. Lungo la strada, la donna afghana che ha salvato si avvicina a lui. Non capiscono la lingua dell'altro, ma Ishar capisce che lo sta ringraziando per averle salvato la vita. Accetta un dolce da lei, prima di continuare il viaggio. Dopo aver raggiunto il forte, viene accolto dal caporale Lalle e dal suo assistente Gurmuk Singh. Ishar è scioccato da quanto sia giovane Gurmuk, dato che ha solo 19 anni e sa l'inglese più di chiunque altro nel forte. Dal momento che Ishar è arrivato più velocemente di quanto gli altri avessero previsto, trova il resto delle truppe a guardare due galli combattere. Nessuno è nelle loro uniformi o sta seguendo le regole che un soldato deve rispettare. Vedendo Ishar, stanno in fila, ma non riescono a impressionarlo. L'uomo rimprovera la truppa, per essere stata una vergogna per l'intera comunità Sikh. Come punizione, viene chiesto loro di lottare tra loro mentre i galli li guardano, e non possono fermarsi finché gli animali non lo dicono. Uno dei soldati chiede come farà un gallo a dirgli di fermarsi, e viene costretto a correre per il forte per aver fatto una domanda stupida. Ishar mette quindi l'alla supervisionare la punizione. I soldati lottano per il resto della giornata mentre uno di loro continua a fare il giro del forte. Ore dopo, Ishar li trova a scherzare e a cantare. Alla domanda sul motivo per cui si sono fermati, l'alla afferma che i galli glielo hanno chiesto. Stavano facendo un rumore che assomigliava alla parola cuoco, quindi i soldati pensavano fossero galli britannici che volevano essere cucinati, e hanno fatto quello che gli animali gli hanno chiesto. Ishar trattiene la sua risata, e punisce l'all per non aver fatto il suo dovere correttamente. I viene quindi chiesto di digiunare per la settimana seguente. I suoi commilitoni prendono posizione, e pretendono di essere puniti a fianco di l'all poiché è il loro compagno. Ishar lo permette, e continua a torturare il gruppo per i due giorni seguenti. Durante questo periodo, scopriamo che tutti e venti i soldati hanno una famiglia a casa, che sperano di vedere presto. Il padre di un uomo ha indossato le stesse scarpe tutta la sua vita, quindi il figlio gli sta preparando un paio di scarpe da regalargli. Un altro uomo è un padre, la cui moglie gli ha appena inviato una lettera con le impronte delle mani della figlia di un mese. Allo stesso modo, ci sono persone che sono state oppresse a causa della loro classe sociale, e quelli a cui mancano le loro madri. Dopo due giorni interi senza mangiare nulla, i soldati iniziano a lamentarsi. Ishar si sente male per loro, e gli permette di porre fine alla punizione prima. Tuttavia, un soldato di nome Kanda si oppone, dicendo che non hanno bisogno della sua pietà. Non gli piace Ishar, e pensa che sia un servitore degli inglesi. Il cuoco di nome Dad rivela che anche Ishar non ha mangiato negli ultimi due giorni, e chiede ai soldati di decidere cosa vogliono fare di conseguenza. Quando chiedono a Ishar perché si è punito per il loro errore, risponde che non oserebbe mangiare quando i suoi compagni stanno morendo di fame. Riesce a conquistare i loro cuori con il commento, e festeggiano insieme. Intanto, Saidullah, l'uomo afgano che voleva uccidere la donna prima, organizza un incontro con i capi di tre tribù afghane. Finora hanno combattuto contro il governo britannico per conto proprio, ma se continuano la battaglia come una squadra, avranno maggiori possibilità di vincere. I capi tribù sono d'accordo, e iniziano a escogitare un attacco. Hanno in programma di conquistare tutti e tre i forti nello stesso giorno, a partire da quello con i Ishar si come è il più facile da conquistare. Saidullah prevede che ci vorranno meno di due ore per uccidere i 21 soldati, perché il loro esercito è composto da circa 10.000 persone. Dopo aver sconfitto le truppe di Ishar si dirigeranno verso gli altri due forti, e conquisteranno anche loro. Da qualche altra parte, a Ishar viene detto che il loro informatore proveniente da un vicino villaggio afgano non si vede da due settimane. Presumendo che qualcosa non va, Ishar e Lal vanno al suddetto villaggio per indagare. Trovano il villaggio pieno di donne, bambini, e anziani, ma non giovani. Inoltre, la responsabilità di costruire una moschea è caduta solo sugli anziani e le donne del villaggio. Al ritorno al forte quel giorno, Ishar rivela di voler aiutare il villaggio a costruire la moschea. La maggior parte dei soldati è contraria poiché la loro religione non è allineata con l'Islam. Tuttavia, Ishar va da solo e inizia ad aiutare gli abitanti del villaggio. A mezzogiorno, un bambino viene quasi ucciso da un soffitto che cade. Ishar lo salva, e viene a sua volta salvato dai suoi compagni che sono venuti in aiuto. Dopo pochi giorni, completano la moschea, e una vecchia da loro da mangiare una mandorla ciascuno. Uno dei soldati tiene la mandorla come qualcosa di prezioso, perché gli ricorda sua madre. Nella scena seguente i soldati sono nelle loro postazioni, quando ricevono un messaggio dal forte vicino, che gli chiede di stare allerta perché le truppe afghane stanno progettando di sferrare un attacco contro di loro. Ishar guarda attraverso la montagna lontana con il suo cannocchiale, ma non vede nessuno. Proprio quando pensano che sia un falso allarme, il suono dei tamburi di guerra risuona nelle loro orecchie. Si vede prima un uomo, seguito poi da cento e infine migliaia di soldati. La folla lascia il posto a Seidullah, che ha catturato la donna che Ishar una volta ha salvato. Per dichiarare l'inizio della guerra, Seidullah la decapita e la folla esplode in applausi. Ishar riceve quindi una lettera dai suoi superiori. Raduna i soldati e dice loro che gli è stato ordinato di ritirarsi e scappare per salvarsi la vita. Una forte risata interrompe Ishar, mentre un soldato noto per non sorridere mai scoppia a ridere davanti a tutti. Lui e il resto dei soldati pensano che sia divertente che gli inglesi credano che gli shik scapperanno come codardi. Ishar comprende il loro sentimento, ma chiede loro di pensarci bene, perché la loro morte è praticamente certa se scelgono di combattere. Kanda, a cui Ishar non è mai piaciuto, pensa che stia cercando di scuotere il loro spirito e ha paura di entrare nel campo di battaglia. In risposta, Ishar entra in una stanza ed esce indossando un turbante color zafferano, che simboleggia il coraggio. Suona il tamburo di guerra e uccide il primo nemico per iniziare la battaglia. Ognuno si prepara nel proprio posto, tranne il 19enne Gurmuk che sembra confuso. Chiede a Ishar perché ha mentito ai soldati, dicendo che i superiori volevano che scappassero quando gli ordini effettivi erano di combattere. Ishar rivela che dando ai soldati una scelta, hanno dimostrato che non sono codardi come disse una volta Lawrence. Ordina quindi al cuoco di servire l'acqua a tutti i feriti, anche ai nemici. La battaglia inizia, e il suono di continui spari segue. Un esplosivo viene lanciato verso i soldati Sik, e fa cadere un uomo fuori dal forte. Prima di essere ucciso, un compagno arriva in suo aiuto. Vengono presi di mira dal tiratore più abile del nemico, nascosto dietro una pietra. Prima che riesca a sparargli, Ishar arriva e fa lo stesso con lui. Quando raggiungono l'interno in sicurezza, Ishar rimprovera Gurmuk per non aver sparato all'uomo che ha lanciato l'esplosivo. Gurmuk risponde che non ha mai ucciso nessuno, e ha paura delle truppe nemiche. Senza sprecare più tempo, Ishar lo assegna al servizio di vedetta, da cui deve inviare continuamente aggiornamenti agli altri forti. Quando Ishar torna al suo posto, le truppe nemiche iniziano a ritirarsi. Saidulla e i capi tribù si fanno avanti con una bandiera bianca, chiedendo di parlargli. I leader di entrambe le parti si incontrano, e Ishar riconosce immediatamente Saidulla. Chiede se Saidulla è disposto a mettere a rischio la sua vita, o è solo bravo a uccidere le donne indifese. Mentre i capi tribù sono calmi, Saidulla brucia di rabbia, promettendo di calpestare il turbante di Ishar più tardi quel giorno. Due soldati Sikh consegnano due prigionieri afghani che erano stati arrestati in precedenza, e Ishar afferma che non uccidono le persone che si arrendono. Tuttavia, si scopre che i prigionieri sono un'esca. Non appena un panno viene rimosso dai loro volti, si verifica un'esplosione che uccide diversi soldati afghani. La lotta continua, ma ormai i rivali hanno raggiunto le mura esterne del forte. Un altro soldato muore per un colpo di fucile, mentre gli afghani iniziano a sfondare la porta del forte. Tre soldati vengono inviati per impedire che la porta venga sfondata. Nel frattempo, Ishar si concentra sul tiratore scelto che ha ucciso il suo compagno. Lega il suo monocolo al fucile per ottenere una mira migliore, e spara all'uomo uccidendolo con un solo colpo. Al piano di sotto, i soldati aspettano che le truppe finiscano i proiettili e sferrano il loro attacco. Riescono a ucciderne molti, ma altri nemici continuano ad arrivare. Improvvisamente, un soldato di nome Bola viene colpito da un colpo di arma da fuoco. Durante l'ultimo minuto della sua vita, dice di essere felice perché la morte rende tutti uguali e non è più inferiore alla casta superiore. Gli altri cercano di fermare la sua emorragia, e un compagno soldato offre persino il suo turbante per coprire la ferita, ma alla fine Bola muore. Presto finiscono i proiettili, e pensano a un'altra tattica per fermare i rivali. Aprono la porta, facendo sembrare che si siano arresi, prima di attaccare il gruppo esterno. Anche se sono pochi che combattono contro cento, mostrano un grande coraggio, e uccidono quante più persone possibile. Con il suo ultimo respiro, Lal chiede all'unico soldato sopravvissuto di correre dentro e chiudere la porta. L'uomo fa come detto, ma è gravemente ferito. Prima di morire, si siede accanto al cadavere di Bola, e recita la barzelletta che odiava. Fuori, Lal muore mentre guarda la foto dell'impronta della mano di sua figlia. Nel frattempo, diversi cadaveri si sono accumulati sotto le mura, e gli afghani usano i corpi e le corde per arrampicarsi sul forte. I primi uomini vengono sconfitti, ma poi altri iniziano a scalare e a uccidere. Alla fine, muore anche l'ultimo compagno, quando spinge se stesso e un gruppo di afghani giù dal muro. Fa anche esplodere un esplosivo, uccidendo molti nemici prima della sua morte. Ora sono rimasti solo Ishar, Gurmuk, e Kada, dei 21 soldati. Ishar ordina loro di rimanere al piano di sopra nel posto di vedetta, mentre lui combatte l'intero esercito da solo. Il nemico finalmente entra nel forte, e viene accolto dal leader. La prima persona ad attaccarlo viene infilzata allo stomaco, il che fa impazzire gli altri dietro di lui. Ishar è circondato, ma combatte come una bestia e sta sul campo di battaglia per diversi minuti contro un'orda di nemici. Improvvisamente, si ferma quando vede che l'uomo che sta per uccidere è un ragazzino. Qualcuno spara alla sua spalla indebolendolo, ma non scalfisce il suo spirito. Anche Kada si unisce a lui nella lotta, e viene ucciso con diverse coltellate. Quando Ishar non ha armi, combatte con le pietre, ma alla fine viene fermato. Il ragazzo che non ha ucciso prima è proprio colui che lo accoltella. Saeedullah arriva all'interno del forte e uccide il povero cuoco, anche se sta fornendo acqua alle truppe afghane. Cerca quindi di togliere il turbante di Ishar, ma con le ultime forze rimanenti, l'uomo pugnala Saeedullah alla gola e lo uccide. Sta per fare buio, e gli altri forti probabilmente hanno chiesto i rinforzi. I soldati sono stati in grado di completare la missione anche dopo la loro morte. Un capo tribù ordina tutti di stare lontano dal turbante di Ishar, impressionato dal suo coraggio. Se ne va, ma il secondo leader desidera ancora sentire piangere di dolore un Sikh. Danno fuoco al punto di vedetta, aspettando che l'unico membro sopravvissuto Gurmuk pianga. Tuttavia, il coraggioso adolescente corre fuori gridando un grido di guerra Sikh. Afferra quindi il leader, e aziona le granate attaccate al suo corpo, creando una grande esplosione e uccidendo molti nemici. Alla fine, gli afghani sopravvissuti saccheggiano il forte e gli danno fuoco. Dopodiché, il Parlamento britannico onora i martiri con l'Indian Order of Merit, il più alto riconoscimento che un soldato indiano potesse ricevere. Vengono costruiti due Gurdwara nel ricordo dei valorosi soldati, che ancora oggi sono visitati da moltissimi turisti ogni anno. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.